La Fiorentina, il club di ora per eccellenza, può ritenersi più che soddisfatta perché finalmente anche lei ha il suo nuovo portiere. Infatti è stato chiuso l'acquisto del buon Oliver Christensen, classe 1999, origini danesi, dell'ERTA Berlino, un'operazione che è stata compiuta a ben 6 milioni di euro circa e dunque la Fiorentina può abilitare alla grande felicità essendosi presa, ripeto, questo portiere, portierone, diciamo così. Si chiama per esteso, ripeto, Oliver Christensen, nato nel 1999, origini danesi, dell'ERTA Berlino, è lui il nuovo portiere di questa squadra calcistica di grande importanza, ossia la Fiorentina. Adesso dovrà dimostrare sul campo di sapere essere ad attesa della situazione, ma sono convinto che lo sarà sicuramente parlando. Comprendi dunque a Christensen, auguri di buon lavoro a lui, speriamo che tutto vada meglio verso il giusto e che soprattutto riuscirà ad essere un ottimo portiere, come se lo convinto sarà in futuro. Ciao da Narrato Italiano di YouTube Italia.